Oggi chiediamo allo Spirito Santo la grazia di saper dominare il nostro carattere e le nostre emozioni. Dalla seconda lettera a Timoteo, il capitolo del primo, il versetto del settimo. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza ma di forza, di amore e di saggezza. Spirito di dominio, di sé, di temperanza, oggi voglio consegnare a te il mio carattere e le mie emozioni per non vivere sotto il loro dominio ma per dominarle, educarle e indirizzarle secondo il tuo volere. Soltanto l'amore dovrebbe guidare il nostro pensare, sentir, parlare e agire. Questa è la seconda grazia che oggi ti chiedo, la grazia del vero amore che domina su ogni sentimento di astio, tristezza, irritazione e disordine del carattere delle emozioni. L'amore vero incanala tutto per far crescere la persona e per renderla una benedizione a favore di coloro che le vivono attorno. Amén. Grazie a tutti.